Per forma è uno dei prodotti della linea in MyForm HD. Questo materasso è prodotto con materiali innovativi e soluzioni all'avanguardia e la sua particolarità è data dalla mancanza di imbottitura che esalta le caratteristiche della lastra aumentandone notevolmente il comfort. La lastra è MyForm, un materiale unico ed esclusivo prodotto solo da Dorelan. Il MyForm è stato testato sui consumatori in collaborazione con l'Università di Bologna con risultati sorprendenti. Con i materassi in MyForm ti addormenti prima, riduci i movimenti durante il sonno e migliori sensibilmente l'efficienza del riposo. Inoltre è dotato della certificazione Ecotex, può essere quindi utilizzato nei prodotti che sono a contatto con bambini di età inferiore ai due anni. La lastra è in MyForm ed è suddivisa in quattro strati. Nel lato invernale il primo strato rende per forma molto accogliente ed elastico. Questo materiale è termovariabile, cioè si modella con il calore del corpo. In più è traspirante, grazie alla sua struttura assicura il costante passaggio dell'aria, mantenendo il materasso sempre fresco ed accogliente. Il secondo strato, in Memory HD, offre un supporto più deciso. Con questa combinazione di strati, Performa offre una risposta immediata ed elastica ai movimenti del corpo, in particolare nella versione soft, consigliata per le persone più leggere. Il MyForm Memory ad alta densità è composto da molecole così dense e compatte che seguono il corpo con grande precisione, sostenendolo in modo anatomicamente corretto. La parte centrale della lastra è un supporto indeformabile che assicura una base ergonomica ed elastica, aiutando a mantenere la corretta posizione durante la notte. Il lato estivo del materasso presenta una particolare struttura a cellule aperte estremamente traspirante. La combinazione fra diverse densità sostiene il nostro corpo in modo graduale, regalando la piacevole sensazione dell'accoglienza progressiva, che risulta particolarmente accentuata dalla mancanza di imbottitura. Speciali sagomature laterali contribuiscono a rendere più accoglienti la zona bacino e la zona spalle e a fornire un sostegno più deciso nella zona lombare e nella zona cervicale. Performa è disponibile sia nella versione soft, che offre un supporto più accogliente, sia nella versione firm, in grado di offrire un sostegno più deciso. Questo consente al consumatore di poter personalizzare il proprio sistema letto. Performa è completamente sfoderabile lungo tutti i quattro lati ed è dotato di maniglie per facilitarne la movimentazione. Fresco e confortevole il tessuto della fodera di Performa favorisce la dispersione dell'umidità, inoltre in fibra naturale, con spiccate caratteristiche antiacaro. Al suo interno sono inserite delle microfibre in carbonio, che aiutano la dispersione delle cariche elettrostatiche accumulate dal nostro corpo durante il giorno. La fodera in solo tessuto e priva di imbottitura lo rende ideale alle reti dinamiche e in particolare a quelle con movimento elettrico. Inoltre la fodera presenta, nella fascia laterale, un inserto in tessuto tridimensionale, che migliora e favorisce l'aerazione del materasso. Grazie a tutti! Grazie a tutti!